Con numero 22 per l'uso, numero 17 per l'uso, numero 18. Con numero 18 in gioco in mano, con numero 21 officinale, con numero 25 per l'altinello e con numero 27 per l'uso. Giorno a te lì, se un numero 26, su un numero 28 per l'uso. Giorno a te lì! 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 A te lì! Giorno 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 a te lì! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti